Quando si è arrivati con le forze partigiane a un certo accordo in quel di Gallarata verso il 25 aprile, era stato convenuto che sotto ufficiali e truppa se ne potessero andare tranquilli senza subire dei danni e invece qualche pestaggio l'hanno subito. L'atteggiamento delle varie controparti è stato mutevole e spesso inaffidabile come poi si è visto, per cui patti già presi e sottoscritti poi non sono stati osservati. L'aiolo mi raccontava che quando il primo gruppo si è arreso i sotto ufficiali sono stati lasciati liberi. Lui è rimasto a Cardano al campo per giorni prima di riuscire a rientrare nella sua abitazione indisturbato. Altri hanno detto viceversa di essere stati maltrattati.